Ha fatto un giro in macchina? Non credo ci sia una legge che me lo impedisca. Lasciati trasportare. In che guai mi sono messo? Un brutto guai. Da chi sa correre qualsiasi rischio. Non ho sentito il tuo nome. Mai fare nome. Con Jason Stubb. Chi la vuole cancellare dal mondo? Nessuno. Trasporto. Se io sappia. Venerdì alle 21.20. Che fai? Voglio ripagarti dei guai. Italia 1. Italia 2.